Il nuovo appuntamento con Sport Today, come ogni giorno siamo in Contemporanea su Radio Center Music su ETV, buon lunedì, buon inizio di settimana, andiamo a ripilogare in apertura come sempre tutto quello che è accaduto nel weekend sportivo iniziando dal calcio e dal calcio di Lega Pro, prima divisione, girone B nella quindicesima di campionato Ascoli sconfitto a Benevento 2-0, Catanzaro Barletta 1-1, Frosinone Lecce 3-1, Grosseto Viareggio 2-1, Gubbio Paganese 2-0 la Nocerina vince in casa con l'Aquila 1-0, a Pontedera passa al Perugia 1-0, a Salerno passa al Prato 2-0 a riposare il Pisa, la classifica con in testa al Perugia 28 punti, Frosinone 26, Pise-L'Aquila 24, Prato 23, Catanzaro 22, Pontedera Benevento 21, Salernitana 20, Lecce-Gubbio 18, Grosseto 17, Ascoli 11, Viareggio 10, Barletta 8, Nocerina e Paganese che chiudono con 7 punti. Questa la classifica dunque sconfitta, ieri per l'Ascoli 2-0 nel momento sicuramente peggiore della storia della formazione bianconera, il Benevento si è imposto per due reti a zero, le reti tutte nel secondo tempo, al cinquantanovesimo il vantaggio, firmato Buon aiuto al 71esimo invece il raddoppio, firmato da Evacuo Ascoli che, anzi o meglio Mister Giordano nel dopo partita ha giudicato immeritata la sconfitta dei bianconeri, la cui partita però più importante, si gioca ovviamente fuori dal campo ed è quella che riguarda la società sugli spalti dello stadio di Benevento, anche Izzo l'imprenditore campano che ha sede proprio le cui aziende hanno sede proprio a Benevento e che entro oggi deve dare una risposta sulla sua reale intenzione di intraprendere una trattativa per rilevare le quote di maggioranza dell'Ascoli dalla famiglia Benigni, domenica prossima invece già stata convocata un'assemblea straordinaria dei soci con due punti all'ordine del giorno o la ricapitalizzazione o la liquidazione del club. Dalla prima divisione al campionato di serie D, risultati nel girone F anche qui della quindicesima giornata, Amiternina batte Termoli 2 a 0, Ancona Isernia 3 a 1, Boiano Fermana 0 a 9, Iesina Fano 3 a 0, Maceratese Giulianova 3 a 2, Matelica Renato Curiangolana 3 a 1, Olimpia Agnonese Civitanovese 1 a 0, Arecanatil sul Mona vince 2 a 1, Vispesaro Celano 2 a 2, la classifica con l'Ancona in testa a 33 e punti, Maceratese 29 sul Mona 28, Matelica 27, Giulianova 26, Termoli, Iesina 24, Vispesaro 23, Civitanovese Fermana 22, Amiternina 19, Fano e Celano 18, Recanatese 15, Agnonese 14, Isernia 10, Renato Curiangolana 6, chiude il Boiano con 3 punti. Andiamo al Delconero ora per vedere la vittoria, seppur a sofferta nel primo tempo dell'Ancona, Ancona che si imposta 3 a 1 con doppietta di bondi e rete di Tavares. Le molisane portano bene all'Ancona, dopo Termoli e Boiano anche l'Isernia lascia lo scalpo al Conero che torna a essere fortino biancorosso grazie all'asse brasiliano portoghese Bondi Tavares che confeziona il 3 a 1 in rimonta. I Dorici tornano alla vittoria in casa un mese e cinque giorni dopo l'8 a 0 al Boiano per raspuntarla, gli uomini di Cornachini hanno però sofferto più per demeriti propri che meriti altrui, perché in fondo il match è stato quasi sempre nelle mani dell'Ancona che, senza abiso e con la conferma del 4-2-3-1, è partita talmente forte da costruire due palle gol in un minuto. Al secondo, Bondi calcia debole di destro dal limite dell'area. 60 secondi dopo invece devia di testa sul primo palo sfiorando il bersaglio grosso. All'ottavo viene annullato un gol di Tavares per fuorigioco dubbio ed eventualmente millimetrico. Altra occasione di marca d'orica al ventiduesimo, incornata di Tavares a colpo sicuro e parata di Navarra. Iserni avrebbe fatto gol soltanto su Regalo Biancorosso, che infatti viene confezionato al 32esimo. Tocchi morbidi di Didio Emallus, Riccardi vince il contrasto con Capparuccia e Cola Sante in fila Lori. Clamoroso, il conero è sul loro del psicodramma collettivo, ma la reazione è caratteriale. Al 34esimo deviazione di Tavares, ma è di nuovo il portiere ospite a tenere sulla baracca. Un giro di lancetta e Galano a terra in area Bondi e calcio di rigore. Tanta la voglia di gol che Tavares sceglie l'opzione potenza. Navarra alza con la manona aperta la palla, sopra la traversa. Al pubblico non pare vero. A rimettere però le cose a posto ci pensa Bondi. Cross di Degano e capocciata del verde oro che mette a segno il primo gol del campionato al Conero. Il pari a fine tempo ridà fosforo all'Ancona, Cornacchini alza la voce negli spogliatoi da dove riesce una squadra ricaricata. L'avvio di riprese è tremendo, al sesto punizione bomba di Degano che scalda i pugni di Navarra. Al settimo Tavares libera il destro, sempre il numero uno bianco celeste a deviare in corner. Ancora un minuto e Bondi completa la rimonta per la sua prima doppietta in bianco rosso, tap in dopo il palo di Capparuccia. Ora è tutta discesa e l'Ancona può dilagare. Il personale duello Tavares-Navarra ha un altro capitolo al diciassettesimo, quando i piedi dell'estrema avversario si oppongono al colpo sicuro del portoghese. Poi al diciannovesimo finalmente il gol del capitano, cross perfetto di Barilaro e stacco perentorio per il 3-1, rete numero sei in stagione. Inizia lo show Degano, al ventiseiesimo a tu per tu con Navarra c'entra il palo esterno, azione che prosegue e termina di nuovo con conclusione dello stesso Degano in area ospite, sempre Navarra però sta volto coi piedi a evitare il poker dell'Ancona. Al trentaquattresimo il sette bianco rosso ci prova con il tiro da fuori, Navarra è incerto, la sfera gli sfugge ma poi batte sul palo. Infine, per non farsi mancare nulla, Degano colpisce anche una traversa al quarantatresimo con un colpo di testa sotto misura. Finalmente però l'Ancona torna a vincere anche in casa. Della vittoria di ieri, del campionato del primato bianco rosso del mercato ancora aperto che chiuderà martedì 17 di dicembre, parleremo nel consueto appuntamento del lunedì sera con serata bianco rossa in diretta dalle 21 e 30. Il campionato di eccellenza invece con la quattordicesima di campionato, Biagio Nazaro-Vigor Senigalli a 3 a 1, vittoria esterna della Samb 2 a 0 sul campo della Cagliese, Castelfidardo-Montegiorgio 1 a 1, a Corridone al Fossombrone vince 2 a 1, Folgore-Fallerone-Trodica 0 a 3, vittoria del Pagliare 2 a 0 sul campo del Grotta-Mare, Monturanese-Portorecanati 3 a 3, a Tolentino il Vismara vince 3 a 1, a Urbani e l'Elpidense-Cascinare vince 2 a 0 la classifica. Con in testa la Samba 38 punti, Biagio Nazaro 30, Castelfidardo 29, Trodica 25, Tolentino 23, Portorecanati 22, Folgore-Fallerone-Urbani a 21, Montegiorgio 20, Vismara 19, Corridone-Apagliare-Fossombrone-Vigor Senigalli a 14, Elpidense-Cascinare 13, Grotta-Mare 11, Monturanese 10, chiude la Cagliese con 7 punti. Dal calcio al basket per i risultati della nona giornata di regular season, girone di andata come ovvio, due sconfitte su altrettante partite per le formazioni marchigiane, l'Emporio Armani supera la Sutro-Montegranaro 101 a 85, la VL Pesaro invece viene sconfitta in casa dalla Ciaroma per 77 a 82. Iniziamo proprio dalla sconfitta da parte della Sutro-Montegranaro. Quarta vittoria consecutiva casalinga per le A7 Emporio Armani che torna al successo e si porta 10 punti in classifica, secondo K.O. di fila per la Sutro che su quattro gare on the road non ha mai vinto e in graduatoria rimane a 6 punti, terzo periodo decisivo per l'assegnazione della posta in palio, 29 a 8 per le scarpette rosse che salivano sul più 24 e archiviavano con 10 minuti d'anticipo la pratica a Montegranaro. Alla fine per gli uomini di banchi, 101 punti con 31 su 49 da 2, 11 su 21 da 3, più 6 a rimbalzo, 20 assist e 113 di valutazione. Grande protagonista della serata, Niccolò Melli, 20 punti 4 su 4 da 3 e 7 rimbalzi, 18 punti per Langford, 14 a testa per Moss e Lawal. Agli ospiti che hanno perso 13 palloni con un solo recupero non sono bastati 23 punti con 7 falli subiti e 4 assist di Collins. Bene anche Skin, 19 punti e Lowers, 14 con 4 su 4 dalla grandissima distanza. Vince Milano con 16 lunghezze di attivo. Come detto invece la VL Pesaro è stata battuta in casa dalla Acea Roma per 77-82. Terza vittoria consecutiva per la Acea Roma che continua a volare in trasferta a quattro successi. Gli uomini di Dalmonte, ex di turno, espugnano Pesaro e si portano a 12 punti in classifica per la VL, sempre ultima da sola in graduatoria e l'ottava sconfitta di fila ha funzionato a dovere la retroguardia capitolina che ha concesso agli avversari il 46% da 2 ed il 26% da oltre l'arco. Ma decisivi per strappare la posta in palio sono stati Baron e Goss. 26 punti in 30 minuti per il giocatore di East Greenwich con 3 su 4 da 2, 6 su 9 da 3, 6 rimbalzi e 31 di valutazione. Di Baron anche la tripla che ha tagliato le gambe ai marchigiani nel finale. Per l'ex Varese 18 punti con 7 falli subiti. Baron e Goss hanno realizzato 20 dei 24 punti iscritti a referto da Roma nell'ultimo periodo. La squadra di Dell'Agnello è stata a contatto fino alla fine. Molto positiva la prestazione di Turner, 24 punti, Bene Trasolini 14 e 9 rimbalzi e Anosicche 11 punti 8 falli subiti e 17 palloni arpionati. Ma non è bastato per tornare al successo. Lega Gold invece per quello che concerne Iesi. Una sconfitta in quella della ciociaria contro Ferentino che si scopre finalmente squadra solida. È finita 93 a 78 dopo l'inizio travagliato, gli inesti sul mercato, il recupero degli infortunati. La squadra di Ferentino sembra poter avere e recitare un ruolo da protagonista. Per Iesi non sono bastati i 30 punti di Limar Goldwire, 17 di Santi Angeli, 13 di Meso Rocca e 11 invece per Michele Maggioli. Il volley ora con la vittoria della Lube, l'ottava vittoria consecutiva in campionato di una Lube che fa la voce grossa in Serie A1. 3 a 0 netto sul parquet di Verona contro la formazione della Calzedonia di coach Gianni. Sesto successo in otto gare di campionato, otto giornate in record di vittorie consecutive in regular season. La formazione di Giuliani continua a comandare con l'imbattibilità e tre lunghezze di vantaggio su Piacenza che è seconda in classifica. Gare in equilibrio soltanto nel terzo parziale, terminato 25 a 22, 25 a 17 il primo set, 25 a 20 il secondo. Adesso la Lube può concentrarsi sull'importante sfida di domani sera alle 20.30 al Fonte Scodella in Champions League, valida per la penultima giornata della prima fase della competizione europea. Versari di turno gli austriaci del Pozoilnika Eichdobb. Importantissimo, fondamentale vincere la partita di domani sera per poi giocarsi tutto nell'ultima gara del girone contro Kazan. Nel campionato di serie A2 invece maschile, una sconfitta per la BKM Golden Plast Potenza Picena, al pala Graziosi passa la vero volley Monza nell'ottavo turno di andata della regular season. La sconfitta per 3 a 1 per la formazione potentina che esce comunque dal campo a testa alta dopo una gara combattuta, viso aperto soprattutto nella fase centrale. Primo set per Monza 16-25, poi 25-21 la risposta di Potenza Picena 19-25, 21-25 il terzo e quarto set che consegnano ai Brianzoli il successo in campionato. Sconfitta nella serie A1 di volley femminile per la Robert Iboni Urbino, la Liugio Modena vince in casa, vince facile 3 a 1 parziali di 25-20, 22-25, 25-9 e 25-20 per la formazione emiliana. Urbino rimane ferma a quota 3 e punti, mantiene ancora 3 lunghezze di vantaggio sulla coppia che chiude la classifica composta da Frosinone e Forlì ancora a 0. È tutto per questa edizione di Sport Today, il prossimo appuntamento domani, il primo come sempre alle 19 in contemporanea su Radio Center Music e su ATV. Grazie per l'attenzione, buona serata.